signore e signori buonasera e benvenuti benvenuti alla fabbrica delle note grazie presidente allora i giovani che ascolteremo questa sera i quattro musicisti finalisti sono stati selezionati da una giuria tecnica preseduta dal maestro marian mica mica tra 21 musicisti 21 musicisti segnalati dai conservatori del veneto in particolare dal conservatorio di venezia padova castelfranco vicenza verona rovigo e adria carlina ivane nata a riga in lettonia nel 1979 si è diplomata in violino con il massimo dei voti al collegio di musica jazeps medins spero che si di riga nel 1999 e nel 2000 si trasferisce arrivata in italia e studia e ha studiato con il maestro walter daga al conservatorio al conservatorio averisto felice dell'abaco di verona diplomandosi nel 2002 con il massimo dei voti e la lode grazie mille 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 Grazie. 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 Grazie.